Sono sei i giovani fermati per uso personale di sostanze stupefacenti dai carabinieri di Bassano del Grappa, segnalati alla prefettura di Vicenza durante i controlli straordinari del territorio. A Bassano fermati due ragazzi a bordo di una vettura in possesso di oltre 5 grammi di hashish. Per quesito anche un 23enne, trovati due spinelli e qualche grammo sempre di hashish. Sequestrati, dosi minime di marijuana a due giovani controllati nel Marossicense e a un 27enne di Bassano del Grappa.